Ora voltiamo pagina e parliamo di rally, perché nel 2010 Peugeot Italia ha rinnovato la sfida al campionato italiano rally. Infatti questa sfida del mondo del rally con Paolo Andreucci e Anna Andreussi, che a bordo della 207 Super 2000, freschi campioni di Italia rally, saranno i portacolori di Peugeot Italia anche per la stagione 2010. Peugeot Italia conferma il proprio impegno ufficiale nel campionato italiano rally, rinnovando la plurienale collaborazione con la Racing Lions di Fabrizio Fabri e Moreno Fusai e lancia la sfida per la conquista del tricolore 2010. Andreucci ha festeggiato la riconferma nel migliore dei modi, vincendo nella classe Super 2000 l'edizione 2009 del Monza Rally Show, conquistando sei delle nove prove speciali disputate alla fine del 2009. Alan Martinez, amministratore delegato di Peugeot Italia, ha detto che due anni di vittorie e di successi sportivi per il marchio del Leone sono frutto del lavoro e della passione di tutta l'equipe. Rinnoviamo con forza il nostro impegno con la 207 Super 2000 e con Paolo e Anna. Sarà una nuova sfida avvincente e impegnativa perché ripetersi è sempre difficile e la concorrenza è sempre più numerosa e agguerrita. Le sfide però fanno parte del DNA di Peugeot, come abbiamo dimostrato anche con la vittoria alle 24 ore di Le Mans. Siamo consapevoli che la 207 è una vettura vincente come dimostrato dai trionfi nelle competizioni e dai dati di vendita sul mercato. Paolo Andreucci ha detto che siamo felici della riconferma, segno della fiducia che Peugeot ripone in noi. Quest'anno abbiamo fatto un gran bel lavoro con una squadra e meccanici al top con una 207 estremamente competitiva. Cominceremo a lavorare da subito per migliorare le nostre prestazioni e presentarci al meglio al via del prossimo campionato. Paolo Andreucci, 44 anni, toscano di Castelnuovo Garfagnana, con trascorsi nella nazionale giovanile di sci, è tornato in Peugeot in questa stagione dopo essere stato lanciato proprio dalla vittoria nel trofeo Peugeot 1991 con una 309 GTI. Andreucci è al quarto titolo italiano assoluto. Anna Andreucci, 37 anni, udinese, ha debutato nelle competizioni automobilistiche nel 1990. Dal 2001 è la navigatrice di Paolo Andreucci, di cui è anche compagna nella vita. E mentre io ricevo questa notizia, voi avete visto delle immagini del repertorio di Ovelli della Peugeot 207 di Paolo Andreucci. E adesso, tanto per restare in tema, vediamo come si guida di Ovelli della Camera Cala con uno spezzatino, piccolo piccolo, ma tanto per entrare in tema sportivo, vediamo. 30, si sinistra, 3 più viene, 3 più viene e anticipa, fine rei, 3 chiude, Zanella, con si 3 più gira, 3 più gira, si destra sinistra, 4 più tenere, per si 4 vai finita, e si sinistra, 4, destra 4, destra 5 più, diventa prima del dosso, taglia 4 più corta, taglia 4 più corta, e taglia destra con si, clop, sinistra 4 meno, con destra 7, 50 vista, taglia sinistra 3 vai lunga, 3 meno chiude 5, taglia sinistra 3 più corta, 3 più corta, 20, tiene la frenata, tornantino sinistro, gira stretto, Rossetti, meno 12, si tornante destro, gira stretto, con taglia sinistra 2 più, con taglia Zanella, per, destra 4 chiude più e con 3 meno lunga, 3 meno lunga, per, taglia tutto, destra 3 più, con no clap, 4 più molla, 30, si destra 7, con taglia sinistra 5 più, per, taglia subito destra 5 più finita, diventa 6 più, 30, dopo il dosso, subito 5 corta taglia, per, destra 7, sinistra 7, con taglia destra 5, 80, sinistra 8, e, no, destra 5 più finita, si, 80, si destra 3 vai corta, con sinistra 3 più, 50, destra 5, 20, sinistra, si destra 3 meno lunga, e, sinistra 4 più, 50,